Siamo tornati in studio, siamo di nuovo ad Angoli, per chi non ci avesse seguito dall'inizio del nostro appuntamento vi ricordo subito il nostro indirizzo di posta, come sempre potete scrivere ad angoli chiocciolaespansionetv.it per restare costantemente in contatto con la nostra redazione. Veniamo quindi al nostro nuovo ospite, un ospite che torna più e più volte ad incontrarci e subito do il benvenuto alla dottoressa Angela Bracuto che ringrazio per essere qui con noi. Noi ovviamente abbiamo capito, stiamo parlando di Biosonica e quindi come sempre un approfondimento sulla possibilità di risolvere un problema che di fatto rende difficoltoso il nostro approccio con gli altri, ma la dottoressa Bracuto ha delle soluzioni che davvero possono migliorare, ottimizzare la qualità della nostra vita. Dottoressa grazie per essere ancora una volta qui con noi. Ciao Dolores, ti prego, diamoci del tu. Sicuramente ufficializziamo l'incontro e poi insomma ritorniamo nel nostro modo colloquiale di conversare. Facciamo un passo indietro, ricordiamo l'ultima volta ci siamo incontrate direttamente nel tuo studio, un ospite gradito, un tuo paziente, un apicoltore che ci ha raccontato dettagliatamente la sua esperienza, la possibilità grazie agli apparecchi che vengono utilizzati nel tuo studio di ritornare addirittura a colloquiare diciamo così con le sue api, nel senso che la possibilità di ascoltare in maniera ottimale tutti i messaggi sonori delle sue api gli ha permesso di ritornare agevolmente al lavoro. Quindi abbiamo capito che ci sono dei programmi dedicati innanzitutto in questi strumenti che consentono di interagire in maniera ottimale e quindi sono degli strumenti intelligenti? Assolutamente, molto intelligenti e diventano sempre più intelligenti nell'arco del tempo, nell'arco degli anni, perché negli ultimi tempi sono stati fatti dei passi avanti incredibili. In particolar modo, visto che stavamo parlando dell'ospite dell'altro incontro, mi dicevi dei programmi, ecco è possibile andare incontro talmente tanto alle esigenze del portatore, tanto da creare delle modalità di ascolto dedicate a seconda delle singole esigenze. Non è strettamente necessario farlo, ma qualora ci si trovi di fronte ad una persona che ha dei bisogni un po' particolari, si può ulteriormente migliorare delle performance che già ci sono, diciamo, di base. Per esempio, possiamo avere dei programmi che ci permettono di ascoltare ancora meglio la musica, perché sono dedicati proprio all'ascolto musicale, distinguendo, e il Signore ne parlava, se si tratta di musica dal vivo piuttosto che musica riprodotta dai dispositivi. Un altro elemento molto importante che è molto utilizzato è un programma dedicato all'ascolto della televisione, perché la televisione è un grandissimo problema. È ben diverso ascoltare la TV rispetto a colloquiare direttamente o ascoltare in un ambiente completamente diverso. Abbiamo la possibilità di inserire un dispositivo, di collegare un dispositivo direttamente alla televisione. Questo dispositivo fa da ponte tra la televisione e l'apparecchio del portatore, dando un beneficio incredibile legato all'ascolto. Prova ad immaginare, sento direttamente nei miei apparecchi come se avessi una cuffia, con il vantaggio che non ho una cuffia che mi isola dal resto del mondo e ho una qualità acustica decisamente superiore. Ecco, quindi, Angela, se ho compreso, al di là delle possibilità, chiamiamole standard, di questi apparecchi, poi ho la possibilità di ottimizzare l'ascolto secondo le varie situazioni e quindi riuscire a percepire ancora meglio particolari sonorità. Esattamente, esattamente questo, hai colto perfettamente. Mi vengono in mente, non so, programmi dedicati, per esempio, io faccio degli esempi proprio concreti di vita reale. Io ho un paziente che fa il postino e naturalmente quando deve consegnare la posta ed è in giro con il suo motorino, non gradisce particolarmente sentire tutti i rumori del traffico. Abbiamo creato un programma che va a comprimere particolarmente i rumori del traffico senza naturalmente farli scomparire, in modo tale da dargli un comfort uditivo. Quindi possiamo fare veramente tutto quello che ci viene in mente tenendo conto delle esigenze di chi abbiamo di fronte. Ecco, Angela, e mi viene anche in mente la possibilità di switchare, di passare da un programma ad un altro, a seconda magari dell'esigenza reale del momento. Richiede una particolare abilità, è complicato, invece, insomma, davvero è quasi in tempo reale, molto facile. È in tempo reale, richiede un'abilità manuale, vale a dire l'utilizzo di un dito, chiaramente, che va posto dietro all'apparecchietto per schiacciare un pulsantino. Qualora, e può capitare, che ci siano persone che hanno difficoltà di motricità, di motricità fine, per cui possono fare fatica a cercare, a trovare questo pulsantino, il problema è facilmente risolvibile con un telecomando, quindi con un dispositivo che hai tranquillamente accanto a te e schiacci da lì. Per cui, assolutamente, si è pensato a tutto. Quindi molta funzionalità e soprattutto molta facilità nell'utilizzo dei programmi, un'ottimizzazione di ascolto, come ci hai detto, ma facciamo un ulteriore approfondimento. La capacità di riconoscere anche, di seguire la voce, questa è un'altra caratteristica importante laddove c'è una difficoltà appunto nell'approccio con gli altri. Certo, allora il discorso dei programmi, diciamo, sono opzioni aggiuntive che non è detto che si vadano ad attivare a seconda delle esigenze. Però sappiamo che esistono, questo è molto importante. Il discorso della voce fa parte di quegli automatismi presenti in alcuni apparecchi che permettono di focalizzare l'attenzione dell'apparecchio sulla voce rispetto ai rumori che possono esserci, per esempio i rumori di fondo. Io ho portato un'immagine, un contributo, chiedo alla regia se possono recuperarlo. Allora, facciamo un esempio, siamo in cucina e ci sono delle altre persone con le quali stiamo parlando, c'è la macchinetta del caffè accesa. È chiaro che c'è un rumore di fondo che disturba, anzi più che di fondo è rilevante direi, che può disturbare la conversazione. Ora, a seconda di dove siamo posizionati, noi abbiamo la possibilità di abbassare leggermente, poniamo di avere la macchinetta alla mia destra. Io sto parlando con te e ho altre persone anche alla mia sinistra. Con un apparecchio intelligente, cosa succede? L'apparecchio rileva questa presenza sonora disturbante. dal lato destro, quindi dove c'è questa presenza, comprime leggermente i rumori e invece va ad aumentare il volume dall'altra parte, in modo tale da avere la possibilità di avere il miglior rapporto segnale-rumore in qualunque circostanza. E questo lo fa in modo assolutamente... Autonomo. Automatico. Ecco, vedo ora... La regine infatti ci manda questa immagine di supporto dove si vede che la persona interessata ovviamente è coinvolta da una serie di segnali sonori e ovviamente qualcuno è più importante, qualcuno meno. E questo strumento davvero intanto funziona in maniera insomma intercettiva. raccoglie e poi seleziona. Ecco, raccoglie, scansiona, perché la cosa bella è proprio questa, che fa una scansione di tutto quanto è presente nell'ambiente e prende delle decisioni, da qui il termine di intelligente, perché fa un'analisi, prende delle decisioni e le decisioni che prende sono legate a come naturalmente abbiamo programmato l'apparecchio e a che esigenze ha il paziente. Però capisci che da solo fa in modo che tu possa avere, tuo utilizzatore possa avere il miglior rapporto segnale-rumore e per segnale intendo voce. Certo, Angela, hai sottolineato. Tra l'altro nella tua spiegazione un aspetto molto importante, cioè tutto questo funziona per come l'apparecchio è stato impostato, quindi davvero un'ottimizzazione sulla necessità personale del portatore dell'apparecchio, quindi non solo una selezione dei segnali sonori, ma anche una modalità di rilevare quelli che per la persona sono più interessanti, più importanti. Assolutamente sì. E per fare questo ti dirò di più che in fase di programmazione dell'apparecchio, prima di andare a gestire le regolazioni, vengono fatte una serie di domande al paziente legate al suo stile di vita. Sono domande che potrebbero anche sembrare magari un'invasione della privacy, però sono fondamentali. Per esempio, viene chiesto con quale mezzo di trasporto si muove abitualmente. Allora, è chiaro che se io mi muovo in pullman, sarò sottoposto ad una serie di rumori e di sollecitazioni acustiche di un certo tipo. Se mi muovo in macchina è diverso, se mi muovo in macchina ulteriore domanda, ma come passeggero, come guidatore? Tu potresti dire, ma accidenti, che ti importa? No, perché se sono guidatore, vuol dire che io porgerò il mio orecchio destro prevalentemente, il sinistro ce l'ho vicino al vetro. Porgerò particolarmente il mio orecchio destro, utilizzerò il destro per l'ascolto, mi sto un po' incartando. Se invece sono passeggero, intanto ho la possibilità di muovermi da guidatore, devo anche mantenere l'attenzione. Più attenzione alla guida, certo. Quindi vuol dire che devo gestire da un punto di vista di direzionalità, perché la cosa bella è che questi apparecchi sono muniti naturalmente di microfoni direzionali, cioè sono in grado di decidere dove porre la maggior attenzione e dove viene posta maggiormente l'attenzione? Davanti. Se io sto parlando, siamo in un ambiente rumoroso, siamo ad una festa, i microfoni direzionali mi permettono di catturare maggiormente il suono che arriva davanti rispetto a quello che arriva dietro. In più ho anche l'ausilio visivo, mi aiuto ulteriormente guardandoti, eccetera. Per cui diciamo che tutto è stato studiato in maniera estremamente intelligente e torniamo sempre alla parola intelligente, e gli apparecchi si muovono, decidono, analizzano come se avessero un cervello. Ecco, e Angela ricordiamo quasi in chiusura di questo nostro appuntamento che tutto questo viene svolto da apparecchi intelligenti, molto discreti perché ricordiamo davvero sono quasi invisibili, quindi si portano senza nessuna difficoltà, ma dopo tutte queste caratteristiche importantissime che ci hai raccontato, ma è possibile testarli di persona senza impegno, insomma così come abbiamo chiacchierato noi? Direi che è doveroso testarli, anche perché diamo un seguito a tante parole, perché qualcuno potrebbe pensare, oh sì, lei ce la racconta così, ma sarà così? Benissimo, venite senza nessun tipo di impegno e proviamo, e sarete poi voi a decidere se effettivamente questi benefici ci sono, questi automatismi ci sono, e il miglioramento della qualità di vita c'è. E assolutamente, io poi sono molto, per me è molto importante portare il paziente a fare delle esperienze positive e a fare delle scelte consapevoli. Verificando anche, strada facendo quello che accade. È il modo migliore secondo me. Bene, io ringrazio come sempre la dottoressa Angela Bracuto con Biosoniche per essere stata con noi, per averci raccontato davvero una possibilità concreta per migliorare la qualità della nostra vita. Grazie e ovviamente ci rivediamo al prossimo appuntamento. Grazie a voi e buona Pasqua. Grazie. Invece noi ci rivediamo con Angoli, ovviamente sempre con la prossima occasione d'incontro, ora è il momento invece di dare la linea ai colleghi dell'informazione. Grazie a tutti.